Rifiutato dalla donna della quale si era invaghito, l'ha perseguitata per diversi mesi, sino ad arrivare a strangolarle il cane con una corda solo per il gusto di vendicarsi. Protagonista un 37enne di Biceglie pregiudicato, arrestato dai carabinieri della compagnia locale al termine di un'indagine cominciata nell'agosto scorso. A scatenare la folle ostinazione dell'uomo, i continui rifiuti delle sue avance da parte della vittima. Prima il corteggiamento, poi una lunga escalation di violenze che hanno coinvolto anche il compagno della donna, picchiato e minacciato più volte dallo stalker. Elefonati a tutte le ore, messaggi minacciosi, insulti su Facebook e anche una richiesta estorsiva nei confronti della coppia. Mille euro per far cessare quell'inferno, altrimenti la loro vita sarebbe stata impossibile. A nulla è servito il tentativo della donna di cambiare abitazione assieme al suo fidanzato. Il 37enne si è presentato sotto casa, lanciando prima sassi contro le finestre e poi dando fuoco alla porta d'ingresso. L'ultimo gesto, il più folle, l'ha rivolta al cane del fratello della vittima, un meticcio di piccola taglia, strangolato con una corda per vendicare quell'amore non corrisposto. Le persecuzioni hanno avuto fine solo dopo l'intervento dei carabinieri, che una volta raccolti gravi indizi a carico dello stalker, gli hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, su disposizione del GIP del Tribunale di Trani. L'uomo dovrà rispondere di atti persecutori, tentate estorsione, danneggiamento, percosse ed uccisione di animali.